amici di 089 siamo tornati ma soprattutto è tornato cocktail zone al mio fianco l'immancabile insostituibile luca casale ciao luca ragazzi buonasera a tutti quest'anno cocktail zone la sua nuova edizione presenterà tante novità che vi scopriremo man mano puntata dopo puntata la prima è che come vedete non siamo alla flare studio quindi la sede casa di luca ma siamo itineranti siamo questa sera siamo al di bar a baronissi cominciamo con dirvi che proprio siamo al di bar perché abbiamo deciso di spostarci quindi se ci volete nel vostro locale ma soprattutto se volete cocktail zone e soprattutto lui non deve fare altro che contattarci o tramite 089 o tramite le pagine della flare studio di luca allora come andate innanzitutto l'estate è l'estate è stata calda ci siamo divertiti siamo radici dal contest e tante altre iniziative ci aspettano in futuro come questa di cocktail zone itinerante noi prima di cominciare vanaggiamo il sempre il solito messaggio di bere responsabilmente perché la nostra trasmissione vuole illustrarvi quella che è la storia del cocktail cosa si nasconde dietro un bicchiere dietro queste bevande che noi beviamo di solito ma soprattutto bere responsabilmente proposito di bere responsabilmente stasera cosa beviamo questa fantastica location che ci ospita luca vi voglio far assaggiare un old fashion che è un drink dei primi del novecento che si prepara col barbon whiskey tipico whisky americano all'epoca si preparava con una zoletta di zucchero bagnata di bitter angostura poi andremo ad assaggiare capiremo meglio che serviva per sopportare i sapori pessimi del distillato quindi a meno resta nient'altro da fare che dargli il via luca quindi puoi metterti al lavoro ci vediamo tra poco ciao Tra le tante novità accennate c'è soprattutto quella riguardante il fatidico momento, il momento in cui io bevevo quello che lui preparava, visto che sono stato accusato di essere egoista e quindi berelo tutto da solo, ci sono due cocktail, Luca ne ha preparati due e non ne berrò nemmeno uno, ma ho chiamato al mio fianco, oltre a Luca, Vincenzo Di Lauro. Buonasera a tutti. Lui per chi non lo sapesse è quello che lavora dietro tutti i montaggi di 089, lui l'ha detto al montaggio, e stavolta berrà il mio cocktail per dimostrere a tutti che sono diventato anche altruista con la nuova edizione. Quindi a voi, prego, potete degustarlo. Adesso lui è di parte, quindi un parere lo chiedo a lui. Com'è? Dagli un voto. Davvero ottimo, otto, voto otto. Può andar bene otto? Sì, vabbè, ci accontentiamo per stasera. Allora, per la prima puntata è tutto, ringrazio di nuovo il D-Bar di Baronissi, ringrazio Luca Casale della Flair Studio, il saluto te lo faccio fare alla fine perché già so di cosa parli. E ringrazio soprattutto l'Archea Production che saranno loro a riprendere, che saranno già riprendendo, soprattutto a montare il tutto, tutto quello che vede, tutto quello che di bello potete ritrovare in questo servizio video, sappiate che solo ed esclusivamente merito loro. Quindi, dal D-Bar di Baronissi è tutto, vi ripeto che se volete averci nel vostro bar non vi resta nient'altro da fare che contattare 089 o Flair Studio nella persona di Luca o chiunque altro. e avrete le nostre telecamere, le telecamere di 089 nel vostro bar. Ciao a tutti da parte mia, il saluto finale aspetta a lui. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti.